Il pittore Ettore Goffi, originario di Montichiari, in provincia di Brescia, ha racchiuso tutte le sue principali opere in una mostra personale intitolata Leggeri sono i fiori rari, esposta presso la biblioteca statale di Cremona in occasione della celebrazione delle giornate europee del patrimonio. Composta da dipinti, disegni, acquarelli e lastre incise, si basa sul tema della natura rappresentandola in tutti i suoi colori e nelle sue mille sfaccettature, racchiudendo non solo panorami e tramonti, ma anche esseri umani immersi nella natura stessa, momento che si discosta sempre più dalle nostre abitudini quotidiane. Le opere ricche di colori e fiori variopinti ripercorrono le tecniche dell'impressionismo per riportare l'uomo a godere del mondo che ci circonda. Diciamo sono cresciuto un po' in un ambiente molto creativo, ecco, poi certamente la mia ispirazione si rifà tantissimo all'impressionismo, ma non solo, soprattutto io cerco anche la trasfigurazione della realtà. Per me la natura è fondamentale, quindi interpreto la natura, perché non si può prescindere dalla natura, ecco, l'imitazione della natura, perché è uno scrigno di bellezza naturale, ecco, da cui non si può prescindere. Sono circa più di 84-85 opere che sono esposte, e certamente ci sono almeno tre filoni, cioè la persona, l'essere umano, la natura come paesaggio, e anche, diciamo, appunto, questa interpretazione spirituale, che vorrebbe essere soprattutto un'oase di pace e di serenità, visto che ne abbiamo tanto bisogno di pace e di serenità. La mostra presso la Biblioteca Statale di Cremona sarà aperta al pubblico fino al 17 ottobre.